Musica Dopo il pari a reti bianche del Gubbio parla il portiere Giacomo Volpe e analizza anche la sua stagione i ricordi amari dello scorso anno e una riflessione sul nazionale e settori giovanili Fuzza al pirotecnico derby tutto e Ugubino in Serie C1 vince il Gubbio Burano che avvicina la Vis Gubbio, scappa il Foligno capolista stasera replica su TRG1 alle ore 22.30 Buonasera, ben ritrovati alla TG Sport, calcio Serie C in apertura è tornata ad allenarsi oggi il Gubbio dopo il pari a rete bianche con la Fermana primo pareggio stagionale in casa un punto che consente ai rosso-blu di salire a 15 punti a più 5 dall'ideale linea play-out con la coppia Ravenna-Sant'Arcangelo a 10 obiettivo di Pagliari recuperare alcuni degli infortunati a cominciare da Luca Ricci il valente centrocampista di 18 anni vera sorpresa della stagione fermato per un problema muscolare ma che potrebbe tornare disponibile per Trieste intanto a fuorigioco ieri sera ha parlato il portiere Giacomo Volpe analizzando non solo il pari con la Fermana ma anche la sua stagione iniziata con qualche incertezza di troppo e c'è stato spazio anche per i ricordi amari dello scorso anno quando venne escluso per far posta a Narcise una riflessione sul nazionale e settori giovanili sentiamo è stata una partita abbastanza difficile quando incontri squadre che si difendono e cercano di ripartire come ogni tanto cerchiamo di fare anche noi è difficile trovare spazi tra le linee le occasioni le abbiamo avute, le hanno avute anche loro e lo 0-0 ci può stare ovvio che in casa vuoi sempre vincere cerchi sempre di fare gol perché abbiamo quasi sempre fatto gol da quando è arrivato il mister Pagliari quest'anno ti senti più tranquillo, più sereno nel senso più padrone della porta? questo dipende sempre da me nel senso se faccio male è giusto che giochi un altro nel momento in cui come l'anno scorso non stavo facendo male non era giusto togliermi senza spiegarmi il motivo questo è stato nel senso la cosa che mi ha fatto un pochino riflettere Buffon è stato un simbolo e ha creato un nuovo modo di interpretare l'oro del portiere e tutti i portieri si ispirano a lui e questo dice Mirante che un po' l'ha penalizzato perché venire sempre paragonato a un portiere probabilmente inarrivabile nel senso ti limita però ti stimola anche a fare meglio vi ricordo la replica di fuorigioco in onda stasera le 21.15 su TRG1 canale 111 intanto oggi è stato designato l'arbitro di domenica prossima per la gara di Trieste alle 14.30 si tratta di Bitonti di Bologna nessuno squalificato nel gubbio mentre tra gli alabardati i prossimi avversari mancherà il centrocampirista Porcari fermato per un turno in Serie B si è aperta la lunga settimana che porterà al derby di domenica prossima liberati tra Ternana e Perugia Grifoni che torneranno in ritiro a Cascia soluzione che ha prodotto la grande reazione di sabato con il 5-0 al Carpi per Breda che è anche un ex la necessità di preparare al meglio una partita che vale mezza stagione così anche per Pokesci non andranno gli ultra perugini per una scelta polemica nei confronti della nuova proprietà Ternana unicusano che ha voluto imporre il proprio nome accanto a quello della squadra è una Sir Perugia sempre più travolgente quella che continua a dominare il campionato di Superlega Volley domenica è arrivata l'ottava vittoria su otto gare in Calabria ed è il settimo 3-0 stagionale sul parquet Vivo Valencia che porta la squadra di Lollo Bernardi a più 4 su Modena vittoriosa ma solo al Taibrec a Milano facile il primo set terminato 25-13 decisamente più tirati i due successivi parziali che Perugia ha conquistato solo al photo finish entrambi al 25-23 una gara che ha esaltato le qualità offensive di Etanasievic autori di 14 punti con Zaitsev e Podraskanin entrambi a 11 punti siamo al calcio a 5 con il derby Tutte Ugubino andato in scena sabato alla Polivalente davanti a un pubblico record Vis Gubbio e Gubbio Burano hanno regalato grandi emozioni ai presenti con una gara tirata fino alla fine vinta da Gubbio Burano 5-3 vittoria che proietta la squadra di Fumanti ad un punto da quella di Bettelli a tutto vantaggio del Foligno che vince di misura e sale a più 5 dalla prima delle due Eugubine vediamo è stato derby vero alla Polivalente quello giocato tra le due formazioni Eugubine di Futsal per il campionato di C1 un derby con tutti gli ingredienti giusti imprevedibilità, agonismo ed emozioni a non finire la spuntata è il Gubbio Burano che oltre a farsi un regalo per se stessa avvicinando proprio la Vis Gubbio in classifica ad un solo punto lo fa pure per il Foligno che grazie alla vittoria risicata per 3-2 sul campo delle CTS grafica ora allunga il suo primato a più 5 dalle inseguitrici inizio decisamente favorevole agli uomini di Marco Bettelli che dopo un paio di minuti sbloccano subito la partita con Sarli abile a sfruttare l'assist di Martella e col destro a mettere alle spalle di Tomassini soltanto i tentativi di Allegrucci ben parati da Beltrami sono l'intermezzo della superiorità della Vis nel primo tempo che viene legittimata al dodicesimo con il raddoppio nel quale il protagonista è ancora Sarli sorprende la difesa del Gubbio Burano servendo Pierotti sul calcio di punizione ed è facile per il 9 della Vis Gubbio mettere dentro il 2-0 col quale si chiude la prima frazione di gioco tutt'altra musica nel secondo tempo che ha neanche 30 secondi dal suo inizio vede Andrà Radicchi siglare un gol che avrà un peso fondamentale nell'economia del match da lì in poi prende coraggio il Gubbio Burano mentre cominciano pian piano ad annacquarsi le polveri degli uomini di Bettelli la partita poi si incendia dal minuto 48 quando Allegrucci è bravo a riconquistar palla e poi a servire un assist facile da depositare per Radicchi che pareggia il conto passa poco più di un minuto e lo stesso Allegrucci stavolta si mette in proprio per siglare il clamoroso sorpasso della Gubbio Burano Pierotti però non ci sta e 4 minuti dopo rimette le cose in parità prima che al 53esimo si incendi il pubblico della Polivalente quando un evidente fallo di mano di Martella viene prima rilevato dal primo arbitro poi inondato in un primo momento dal secondo arbitro dopo un paio di minuti di enormi proteste della panchina del Gubbio Burano Martella viene espulso il calcio di rigore viene concesso e dopo la prima parata di Beltrami sul tiro di Radicchi la palla sbatte sullo stesso numero 11 degli uomini di Fumanti e permette ai suoi di tornare in vantaggio la vis si getta tutto in avanti alla ricerca del pari e di rimessa patisce il gol partita il punto esclamativo lo mette Stagi segnando il definitivo 5-3 emulando Eichier in un Verona Juventus 2-0 del 1985 ovvero perdendo lo scarpino la vittoria del Gubbio Burano proietta la squadra di Fumanti a 30 con la vis Gubbio che resta a 31 e vede scappare il Foligno a 36 ma proprio sabato il quintetto di Betteglie ha l'opportunità di recuperare parte del terreno con lo scontro diretto non sarà facile ma a Foligno la vis si gioca le chance per rientrare in corsa per lo scettro del torneo Vi ricordo la telecronaca di questo derby replica stasera alle 22.30 su TRG1 canale 111 Era l'ultima notizia che chiude il nostro TG Sport ma anche la nostra striscia dei TG Serali grazie per averci seguito a voi una buona serata Grazie a tutti